...divisione maltese, però prima faccio un attimo una nota, il tempo chiaramente dirci una parola. Mi spiace che sia così breve, perché a volte un quarto è previsto l'atterraggio e dobbiamo scattare le fotografie. Sempre la guerra è una crudeltà, è una cosa inumana, e va contro lo spirito umano, non dico cristiano, umano. Nello spirito di Caino, che si dice che va lì, io sono disposto a fare tutto quello che si possa fare. E la Santa Sede, soprattutto la parte diplomatica, Cardenale Barolin, Monsignor Gallagher, stanno facendo di tutto, ma di tutto. Non si può pubblicare tutto quello che fanno, per prudenza, per riservatezza, ma siamo al limite del lavoro. Fra le possibilità c'è il viaggio. Ci sono due viaggi possibili. Uno, me l'ha chiesto il Presidente della Polonia, di inviare il Cardenale Krajewski a visitare gli ucraini che sono stati ricevuti in Polonia. Lui è andato già due volte portando due ambulanze e è rimasto lì con loro, ma lo farà un'altra volta e è disposto a farlo. L'altro viaggio che qualcuno mi ha domandato, più di uno, io ho detto con sincerità se io avevo in mente di andarci. Io ho detto che la disponibilità sempre c'è, non c'è il no prima, sono disponibile. Grazie a tutti.